Vai, vai, mettiti seduta qua, dai, vai, mettiti seduta. Ma dove andiamo? Te l'ho detto prima, andiamo al ranch. E quale è il ranch? Uno nuovo. Perché uno nuovo? Boh, non lo so. Nell'ultimo ranch da cui siamo scappati, che cosa hai fatto? Niente. Agli animali, che cosa hai fatto? Che cosa hai fatto a quel cane? A quelle galline? Ci giocavo, non... E poi cosa hai fatto? E cosa ho fatto? Sono morti. Basta. Noi adesso andiamo al ranch. E spero che sia l'ultimo. Sono stanca. Sono molto stanca. Sì, ma quale ranch? Ha un ranch che abbiamo trovato, là, lontano. Domantina ci andiamo. Adesso ci riposiamo, ok? Perché sono stanca, credimi. Non ce la faccio proprio più. Ma chi ne ha trovato questo ranch? L'ho trovato io. E come? Attraverso delle persone, ho chiesto delle informazioni, lontano da dove stavamo prima. Perché se vengono a sapere quello che hai fatto, se vengono a sapere quello che hai fatto ai bambini, lo sai che cosa fanno? Ci cacciano anche da questo. E cos'è che vogliamo noi? Tu ricordi che cosa vogliamo noi? No, dimmelo tu. Un posticino tutto nostro. E dove? Troveremo, lo troveremo. Un posticino tutto nostro. Ma per avere un posticino tutto nostro, che cosa dobbiamo fare? Eh? Dobbiamo guadagnare i soldi. Per guadagnare i soldi dobbiamo lavorare. Per lavorare dobbiamo restarci in un posto. Ma dobbiamo restarci in un posto. Non possiamo dover scappare sempre perché tu ammazzi tutti gli animali. Perché dai fastidio ai bambini non dobbiamo farlo. Ma dove li ho ammazzati gli animali? All'ultima volta. L'ultima volta. Quel cagnolino, che cosa gli hai fatto? Niente. Che cosa gli hai fatto? Niente. Che cosa gli hai fatto? Dov'è quel cagnolino? Adesso? Non so. È morto? Allora, al prossimo ranch, e te lo dico l'ultima. Il prossimo è il nostro? No. È dove andremo a lavorare. Andremo a lavorare, faremo i soldi e ci potremo comprare un posticino tutto nostro. D'accordo? Allora, qui dal tavolo. E che faremo là? Là lavoreremo e ci compreremo un posticino tutto nostro, con tutte le cose quelle che ci piacciono. D'accordo? Mmh. Va bene? Vi posso riposare? Sì, sì. Prima fammi vedere che cosa c'hai lì in tasca. Niente. Fammi vedere che cosa c'hai lì in tasca. Valentina, fammi vedere che cosa c'hai lì in tasca. L'ho trovato. Cosa hai trovato? Cosa? Che cos'è questo? È un amico. È l'ennesimo animale che hai ucciso. È un topo morto. È un topo morto. Basta. Non devi avere gli animali morti. Non li devi uccidere. Non l'ho fatto apposta. È successo. Valentina. Valentina, no, 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 no. Ogni volta che tu vorrai, tornerai a scendere, andremo, toccare un animale, lo chiedi a me. Posso averlo? Ogni volta che tu vuoi parlare con qualcuno, lo chiedi a me. Se gli fanno delle domande, tu che devi dire? Chiedete a lei. Niente. Parla a George. Ok? Parlo sempre io. D'accordo? Promesso? Possiamo dormire perché sono stanca. Non ce la faccio più. Ok? Basta. D'accordo? Calma, eh? Adesso dormiamo. Ma dove andiamo domani? Andiamo a Reggio, dove guadagneremo tanti soldi. Per poterci comprare il posticino tutto nostro. E ora, per favore, riposiamoci. Va bene? Dai. E ora, per favore, riposiamoci. E ora, per favore, riposiamoci. E ora, per favore, riposiamoci.